A poche settimane dalla cesa Chierel tra sindaco e operatori sulla tassa di soggiorno, ecco che si concretizza quello che gli albergatori storici e retini avevano ipotizzato. Prima bisogna portarlo il turismo, ci avevano detto, poi si può anche introdurre una nuova tassa. Ed in effetti a Rezzo e la sua provincia si è confermata una meta da mordi e fuggi. Weekend di Pasqua a parte, quindi una o due notti al massimo, la percentuale di occupazione delle camere è stata scarsa. Cortona, come al solito, è l'unica meta che fa eccezione e non certo per il pur grande merito della mostra in corso adesso al Mike, i tesori etruschi provenienti dal British Museum. Il territorio cortonesi e la valdichiana in genere sono indubbiamente più appetibili e sanno vendere le loro bellezze, come il comune capoluogo ancora non sa fare. A Rezzo per il momento è solo posto di transito per poi visitare Firenze, Siena o Perugia. Solo gli eventi sportivi in questo momento stanno realmente garantendo un minimo di turismo. Non basta dunque per garantire lavoro ad un'intera categoria e soprattutto per riconvertire l'economia di un territorio che sempre di più, vedi le ultime vicende come Conze ed MBF, è in piena emorragia di posti di lavoro.